salve a tutti buongiorno io mi trovo a Pizzorna poco sopra Lucca e oggi volevo approfittare di questa bellissima giornata di questo bellissimo parco per portarvi lo sfidozzo di questi due gioiellini l'iphone 13 pro max del precedente anno che sfida il nuovissimo fantastico iphone 14 pro max partiamo subito da quelle che sono le differenze estetiche effettivamente io in questi due giorni di utilizzo pieno pienissimo di questo smartphone che ho deciso di affiancare proprio a lui proprio in virtù del fatto che dovevo preparare questo sfidozzo ho notato che esteticamente differenze in pratica non ce ne sono ora lui ha questa coverina questa questa pellicola che realizzo io con il mio nuovo macchinario però di fatto posso garantirvi che a parte le colorazioni e il nuovo viola lui che era il celestino non c'è più di fatto non c'è questa grandissima differenza anzi proprio non ci sono se non solamente derivante è una questione di gusti il frame laterale è rimasto esattamente lo stesso così come tutti i tasti è il carrellino dello slot delle sim e parleremo anche di sim perché in questo momento sto testando due operatori perché come sapete sto iniziando questa avvierò questa nuovissima rubrica che parlerà proprio appunto di operatori mobili a bando alle ciance allora qualcuno qualcuno di voi mi aveva chiesto se c'erano delle differenze del per quanto riguarda il display al netto della pillola e quindi la dimensione del del display stesso ho risposto e confermo che a occhio nudo non mi sembra che ci siano delle differenze al netto del notch della nuova pillolina che offre delle soluzioni diciamo in più rispetto a quello che c'era sull'iphone 13 pro max e parto proprio appunto da questa prima differenza che secondo me poi alla fine è la vera differenza per un comune utilizzo che può far riflettere se passare da lui a lui ed è appunto questa dynamic island che in maniera molto furba e non solo furba devo dire apple ha saputo utilizzare dandogli un non soltanto la funzione tecnica che doveva racchiudere e il i vari sensori il sensore 3d e il sensore della selfie cam ma è riuscita in qualche modo ma furba o meno a renderlo dinamico e appunto per dare un'esperienza di uso che in questo momento è abbastanza limitata devo dire perché dipendente solo è sfruttabile solo con alcune con alcune applicazioni ma credo e sono molto sicuro nel potervelo dire che presto raccoglierà tantissime tantissime funzioni proprio perché gli sviluppatori svilupperanno appunto questa funzione anche nelle loro app la la danami da dynamic island è una prerogativa un esclusiva della dei modelli pro pro standard è il 14 pro max altro elemento che distingue diciamo i due è il fatto che il sul 14 pro max sulla serie e 14 pro arriva anche il l'always on display una roba che abbiamo visto chi ha utili chi utilizza e che ha utilizzato android vede ha visto da diverso tempo finalmente arriva anche sul sull'iphone ora non so quanto si veda metterò delle immagini in maniera tale si possa vedere diciamo un mero effetto di stile cioè non mi sento di dire altro perché diciamo mi viene quasi voglia di di toglierlo perché più che altro a parte non offre così tante funzionalità e soprattutto mi è capitato la notte di metterlo in carica sulla mia trespolino wireless e rimane acceso e questa luce diventa un po fastidiosa sicuramente è possibile impostarlo però diciamo così a prima botta mi sembra semplicemente un dover utilizzare maggiore batteria per una funzione che effettivamente non ha quasi nessuna finalità altra funzione che viene introdotta sulla serie 14 è il che non c'è che non è presente sulla serie 13 sul mio 13 pro max è il rilevamento degli incidenti è un qualcosa che effettivamente non possiamo testare a meno che non simuliamo un incidente però apple garantisce questa nuova funzione che se lui si dovesse trovare all'interno di un'auto che subisce un incidente effettua un incidente in automatico viene rilevato questo incidente viene mandato l'SOS noi in in aiuto a livello software diciamo ci sono altre significative differenze se non il fatto che lui ha presente il processore a 15 bionics mentre lui ha montato il nuovissimo a 16 bionics sempre 6 core la cpu a 6 core gpu a 5 core posso dirvi in questo primo giorno di utilizzo che lui ora nel fare i video che poi vi farò vedere è di approfondimento ha scaldato ha scaldicchiato effettivamente un po' meno rispetto al 13 pro max lato capacità di batteria apple dice che lui ha maggiore batteria e posso dirvi che si l'ho utilizzato decisamente di più e lui in questo momento al 67 per cento e siamo a luna luna del del mattino quindi devo dire che nonostante lo always on display lui comunque abbia ha una durata che secondo me si attesterà tranquillamente anche nelle giornate di carico stress video eccetera eccetera farà assolutamente tranquillamente la giornata quindi per un utilizzo più o meno normale è chiaro che durerà molto molto di più assolutamente in linea con quello che faceva il mio 13 al netto degli ultimi mesi dove effettivamente l'ho utilizzato abbastanza quindi la batteria non era più in non era più come quando chiaramente l'ho acquistato altra differenza che effettivamente anche sotto la luce del sole come vi faccio vedere è il fatto che lui riesce arrivare a un picco massimo di luminosità dello schermo di si parla di 2000 nits ora bisognerebbe assolutamente misurarlo io non ho il misuratore per queste cose però vi dico che a occhio nudo lo ribadisco al netto dei problemi che c'erano stati con vari aggiornamenti eccetera eccetera l'iphone 13 pro max era sempre stato molto a livello ora lui così guardandolo si è decisamente è no decisamente senza decisamente più luminoso però diciamo secondo me non c'era quasi la necessità di fare un passaggio così così in netto ma la cosa che è cambiata sostanzialmente sono le camere il comparto delle camere dove apple effettivamente ha fatto delle migliorie come potete vedere che sono distinguibili posso dirvi che sullo smartphone e dalle storie che fra l'altro vi ho postato e vi invito a seguirmi sul canale instagram e devo dire che questa questa enorme differenza non c'è è chiaro che la 48 megapixel secondo me con il fatto che è stato introdotto una lente come se fosse un nuovo obiettivo 2x croppando l'immagine a 12 secondo me potrà portare dei benefici però detto fra noi se non avete veramente delle velleità da fotografo professionista o da videomaker posso dirvi che la scelta non c'è non 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 occorre cambiare se stiamo cercando un uno smartphone che ci possa accompagnare in maniera professionale secondo me ancora il 13 pro max svolge egregiamente il suo lavoro con le fantastiche lenti a 12 megapixel che registrano in 4k altre cose quindi abbiamo la 48 megapixel che switch a 12 megapixel quindi croppa quando utilizziamo il 2x con la fotografia e lì vi lascio banalmente alle immagini che ho realizzato in questa splendida giornata chiaramente immagini che poi vedrete anche con i prossimi sfidozzi sempre più nel dettaglio che poi vedrete anche con i prossimi sfidozzi sempre più nel dettaglio di e questa è la selfie cam dietro max che mi sta dando una mano oggi oltre a darmi una mano a tavola per mangiare eccetera mi ha dato una mano nel trovare questo posto a pizzorna spettacolare bellissimo e ora fare le riprese di questo video è chiaro che c'è la liberatoria vero max un tecnicismo secondo i parametri rilasciati da apple le lenti del 13 pro max risultano essere più luminose cioè hanno una focale che arriva a 1.8 contro la 2.2 dell'ultra grandangolo e il telebiottivo è identico è rimasto lo stesso mentre sul grandangolo quindi la lente standard lui arriva a un f1.5 quindi decisamente molto più luminosa dell'f1.78 sua della 48 megapixel quindi diciamo che ci sono pro e contro io sono ad esempio per le lenti molto luminose perché mi piace molto lo sfocato che creano e soprattutto perché possono essere utilizzate in maniera più agevole anche in condizione di luce è un po' più difficoltosa ecco però fatto sta che l'1.78 è una roba comunque stratosferica altre differenze non ce ne sono se non sulla fotocamera frontale quella dei selfie dove effettivamente questa cosa l'ho vista ma non tanto nella riuscita della foto ma perché comunque lui riesce ad agganciare più velocemente grazie al nuovo autofocus il soggetto e quindi rende l'immagine più stabile no? 10 su 10 viene fuori l'immagine che noi ci aspettiamo mentre con lui effettivamente ultimamente si faceva un po' di fatica altra funzione molto interessante ma che secondo me diciamo fattore determinante per la scelta è la nuova modalità azione sulle riprese video riprese video che rimangono assolutamente di livello e vanno benissimo anche con queste state vedere come state vedendo cioè alla fine ragazzi veramente non ci sono particolari differenze sulla modalità azione c'è un crop dell'immagine cosa che avviene spesso in tutte le camere professionali e non la stabilizzazione effettivamente raggiunge uno standard che già parte da un livello altissimo ma che raggiunge uno standard ancora decisamente molto più alto e ne è introdotta come vi dicevo la modalità cinema l'Apple ProRes questo formato che non comprime nulla però è una roba che richiede veramente tanto hard disk considerate che 256 giga liberi riusciamo a registrare un video in Apple ProRes di 20-25 minuti quindi capite quante informazioni vengono messe dentro lo smartphone e quanto sia di altissima qualità questa ripresa è stato introdotto sulla modalità cinema è stata introdotta finalmente in 4K con l'HDR a 30fps mentre resta ed è ridotta a 1080p a 30fps sul 13 Pro Max una differenza secondo me ragazzi veramente a meno che non dovete fare delle clip come ad esempio dei bei B-roll che sono tipicamente quelle immagini che vedete mentre io parlo e farle con questo anziché doverle fare con una camera professionale diciamo che se non avete questo tipo di utilizzo non vi interessa andiamo alle conclusioni perché sostanzialmente la domanda che mi avete posto tutti quanti e per cui ho deciso di fare prima questo sfidozzo piuttosto che lo sfidozzo degli sfidozzi che sarà con l'S22 Ultra è appunto quella ma Marco mi conviene cambiare? vi do una risposta secca secondo me no secondo me non conviene cambiare in questo momento dal 13 Pro Max ma mi sento di dire che per un utilizzo normale un utilizzo comune da tutti i giorni quello che facciamo non conviene cambiare nemmeno se avete il 12 Pro Max perché comunque la qualità di Apple è veramente alta e mettendomi nei panni di chi lo devo utilizzare per fare dei selfie delle foto, postare su Instagram eccetera eccetera e avere dei bei ricordi secondo me non vale la pena oggi andare su uno strumento che sia Pro perché effettivamente Pro dove le differenze sono Pro io spero di non essermi dimenticato assolutamente nulla ho fatto tante foto, ho fatto tanti video quindi alla fine la prova del 9 ve la devo dare questa cioè le foto e i video che fate ripeto il livello è rimasto, è alto, altissimo quindi qualunque scelta secondo me è una questione di gusto e secondo me in questo caso non troverete tante differenze seguitemi sulla pagina Instagram dove costantemente e quotidianamente posto ho dei confrontini pratici perché poi alla fine i social sono quelle piattaforme di condivisione che rendono poi alla fine ci danno la possibilità di notare più velocemente quali possono essere le differenze presto prestissimo parleremo di operatore perché come vi ho accennato anche nei precedenti video la mia bottega tech che vi invito a venire a visitare vi lascio il link e vi lascio l'indirizzo sotto in descrizione da praticamente un paio di settimane propone e vende tutti gli operatori quindi se avete, se in questo momento state valutando i cambiare operatore potete scrivere sul numero del canale che è questo qui tanto non lo ricorderò mai a memoria mandare un whatsapp che io, Manuel e le mie persone vi ricontatteremo per darvi tutte le informazioni del caso in questo momento io sto facendo un test che arriverà nei prossimi video quindi a parità di smartphone ho inserito una sim di un operatore sul 13 e di un altro operatore sul 14 non vi dico chi sono perché ve ne parlerò molto nel dettaglio con i prossimi video mi raccomando pollicione in su a questo video io spero che questo video vi sia piaciuto che le immagini soprattutto vi siano piaciute e con questo è veramente tutto buona domenica e ci vediamo al prossimo fantastico video ciao